Eravamo al cimitero, io insieme ai miei fratelli e altri bambini, c'era questa persona con in mano un coltello, il bimbo piangeva, si dimenava e dopo sferzato il colpo nessuno poteva piangere, nessuno poteva reagire. L'ho fatto anch'io, però eravamo ovviamente costretti. Tu hai ucciso dei bambini? Io ho ucciso un bambino, sì. Abbiamo partecipato a dei riti satanici in cui venivano uccisi dei bambini, con questo racconto agghiacciante inizia una vicenda che travolgerà una comunità intera. Era inutile che negavamo l'evidenza perché il bambino dice sempre la verità, la loro risposta è quella lì. Se uno non è andato a Roma e un bambino dice che è andato a Roma, tu ci sei andato perché lo dice un bambino. Purtroppo senza prove sono andati avanti a senso unico. Quanto sei stato condannato e quanto hai scontato? Ah, io la pena, ho scontato una pena di nove anni di galera. Noi eravamo la famiglia etichettata come pedofilo. E questo ce lo portiamo sempre dietro. Hanno scontato anni di carcere, le loro vite, le loro famiglie sono state rovinate per sempre, ma delle accuse nei loro confronti non si è mai trovato riscontro. Buonasera e benvenuti a Falò. La vicenda che vi proponiamo oggi è davvero una vicenda incredibile e drammatica, molto intensa. È una vicenda che inizia con dei bambini che raccontano cose terribili, ne abbiamo avuto un assaggio nel sommario. Cose di cui però non ci sono tracce, non si trovano tracce in nessun modo di questi racconti. La giustizia però seguirà queste testimonianze e almeno in parte darà delle sentenze che andranno in questa direzione centrale. In questa storia il ruolo dei servizi sociali e dei loro psicologi convinti che i bambini dicono sempre la verità. Capo scuola di questo metodo, Claudio Foti, psicologo che ha frequentato anche il Ticino per diversi anni ed è anche per questo che noi stasera ne parliamo. Buonasera e benvenuto al dottor Carlo Calanchini, psichiatra. Buonasera. Allora, abbiamo fatto un accenno a Foti. Lei ha avuto modo di venire indirettamente in contatto con Claudio Foti perché ha dovuto redigere una controperizia rispetto ad una perizia fatta qui per un caso ticinese fatta proprio da Claudio Foti. Lei che impressione ha avuto leggendo la perizia di Foti? Ma in sintesi la mia impressione è stata non peggiorabile, cioè non c'è nulla di buono in quel lavoro. Allora, un giudizio secco, tranciante che naturalmente poi dopo nel corso della trasmissione spiegheremo più in dettaglio. Allora, cominciamo con vedere l'inchiesta realizzata dalla collega Anna Bernasconi, un'inchiesta che fa capo a tre momenti diversi, tre episodi che si sono svolti nell'arco di una ventina d'anni in Italia, ma è una vicenda che ha una valenza globale perché casi simili ci sono stati in altri paesi europei, in Inghilterra e negli Stati Uniti. Vediamo dunque l'inchiesta per cominciare. Buio, notturno, c'era gente mascherata, eravamo al cimitero, io insieme ai miei fratelli e altri bambini cavavano, disotterravano le bare che c'erano, dicevano cose particolari, non so se erano in vocazioni o comunque preghiere in lingue strane e poi intorno a noi c'erano questi adulti che ci tenevano fermi perché sai, i bambini più piccoli volevano scappare, volevano andare. Io mi ricordo che un rito poteva durare poco, poteva durare tanto e c'era praticamente questa persona con in mano un coltello, il bimbo appoggiato sopra un tavolo, un qualcosa, piangeva, si dimenava e noi lì immobili con le lacrime agli occhi senza poter far nulla, quel senso di terrore che comunque mi passa ancora per, lo sento ancora vivo addosso e il fatto che dopo sferzato il colpo nessuno poteva piangere, nessuno poteva reagire, nessuno poteva così ribellarsi a quella situazione e però dopo non arrivavano spiegazioni, cioè dovevamo solo stare in silenzio come se niente fosse, dopo poco si tornava a casa e che uno dopo se le racconta, dice che sono giganti anche per noi, cose intollerabili, cose che vanno fuori da ogni logica e da ogni sensibilità umana. Il 12 novembre del 1998 Valeria Covezzi insieme ai tre fratelli e ai tre cuginetti viene allontanata dalla famiglia. In quello stesso anno, nei piccoli comuni di Massa Finalese, Finale Miglia e Mirandola, 16 bambini vengono tolti alle rispettive famiglie. Non le rivedranno mai più. Oltre 20 adulti finiscono in manette, sono i genitori, i nonni, gli zii e il prete del paese, indagati per abusi sessuali su minori, abusi di gruppo e riti satanici nei cimiteri. Ma eravate in tanti, c'erano anche altri adulti e altri bambini, giusto? Il più delle volte c'eravamo solo noi, comunque fratelli. Ma a volte succedeva di essere con la cuginetta o con altri bambini. Noi bambini della bassa modenese siamo usciti in 16, quindi io in queste situazioni ho avuto modo di incontrare anche questi bambini. Facevamo parte di un gruppo dove andavamo nei cimiteri, perché ci hanno fatto ammazzare dei bambini, l'ho fatto anch'io, però eravamo ovviamente costretti. Tu hai ucciso dei bambini? Io ho ucciso un bambino, sì. Ovviamente è forzata, mi hanno aiutato, però sì. L'hai dovuto fare anche tu? Una volta sì. E non ne vado particolarmente orgogliosa, perché ho detto nella mia mente poteva essere tranquillamente un mio fratellino, comunque qualunque persona piccola così. C'erano anche abusi sessuali in questo cimitero? Dipende come gli adulti volevano organizzarsi, nel senso che non c'era uno schema fisso o una cosa da dire mi preparo perché so. Perché ogni volta era qualcosa di nuovo o qualcosa comunque di diverso, quindi noi eravamo sempre con il punto interrogativo, il grande dubbio di dire cosa ci aspetta. Ad abusarla sarebbero il padre, i tre zii e il nonno materno. Violenze che avvengono sotto gli occhi della madre, in casa, in capannoni di campagna e anche nei cimiteri. Le stesse brutte cose non le fanno solo a me, ma anche ai miei fratelli, ai miei cugini e ad altri bambini. La vicenda viene chiamata i diavoli della bassa modenese e sconvolge i tre piccoli paesi dove tutti si conoscono. Nell'archivio parrocchiale di Finale Miglia, il prete di allora aveva conservato gran parte dei documenti. Sì, questa è la sede dell'archivio parrocchiale e qui abbiamo raccolto anche il materiale che la documentazione è raccolta da due attorelli che sono i dati su questo episodio, su queste tristi cose diciamo. Sei mai stata al cimitero di Massa Finalese? Sei mai stata al cimitero di Massa Finalese? I miei zii e mio nonno mi portavano anche lì e mi facevano delle cose brutte nel cimitero dentro. Mi portavano con la macchina, poi andavamo dentro e iniziavano a farmi le stesse cose che mi facevano in quella casa di campagna. Dopo che ci hanno fatto impronte digitali, fotografie, mio fratello ha detto «Ma perché siamo qua?» E loro hanno detto «Perché non sai quello che ha detto tua nipote?» No. Cioè si erano anche arrabbiati, incassati perché non sapevamo niente. Alla fine dopo ci hanno detto «Ma voi avete l'avvocato?» «Fa no, perché ci serve l'avvocato?» Io ho letto il mandato di Catturi in galera e praticamente tutto quello che c'era scritto non faceva parte della mia vita, tanto meno quella dei miei familiari. Quella notte del 12 novembre del 98 a massa finalese ci sono 64 agenti su volanti con sirene spiegate. L'intera famiglia di Valeria da parte materna quel giorno viene arrestata. Il nonno invalido, i tre fratelli Emidio, Giuseppe e Giuliano insieme alla moglie. E tutti i bambini vengono portati via. «Poi chiamo mia figlia per telefono alla Lorena e dice «Ma mamma, anche qui succede la stessa cosa». «Ma come succede? Ma cosa sta succedendo? Cosa abbiamo fatto?» «Dice sto andando via con i bambini e anche Delfo. Si portano in quest'ora». E allora io mi sono sentita talmente male, talmente male, mi sono buttata giù per terra, in ginocchio e ho detto «Signore, io tommi tu perché io non riesco più a... Cos'è questa cosa? Mi tolgono tutta la famiglia, mi tolgono». Era una cosa prima di tutto che ci sentiamo tutti innocenti. Tutti e siamo innocenti. E noi eravamo la famiglia etichettata come pedofile. E questo ce la portiamo sempre dietro. Ho trovato ore di VHS dei piccoli covezzi. Sono gli incidenti probatori e le deposizioni ai giudici, registrati mesi dopo il loro allontanamento da casa, già in fase di processo. «Poi sempre più male. E poi è strano perché sentivo sbattere come una cosa di ferro. Sono stato qualcosa come un tubo». «Ci portavano al cimitero e non l'hanno fatto soltanto una volta. L'hanno fatto per 5-6 volte». «Era inutile che negavamo l'evidenza perché il bambino dice sempre la verità. La loro risposta è quella lì. Se uno non è andato a Roma e un bambino dice che è andato a Roma, tu ci sei andato. Perché lo dice un bambino. Perché il bambino dice sempre la verità. Purtroppo senza prove sono andati avanti a senso unico». «Quanto sei stato condannato? Quanto hai scontato?» «Ho scontato una pena di 9 anni di galera». «A che età sei entrato?» «A 30 anni». «A me mi portavano con i miei zii». «Mi ripeti chi erano?» «Il Giuseppe, il Midio, il Figliano e la Monica». «La Monica e la moglie». «Sie». «Poi perché portavano sempre il bambino all'argomoto». «Quello che hanno detto i miei nipoti non è farina del loro sacco». «Non è farina del loro sacco». «Che andavamo al cimitero di Massa Finalese e nei cimiteri delle zone di Mitrofea Massa». «A praticamente a sotterrare i cadaveri, a uccidere dei bambini, a violentare dei bambini senza che nessuno ci avesse visto». «E prima di uscire mettavamo a posto tutto, non lascevamo tracce». «Dunque, io posso anche raccontarvi come è passato il funerale di mia moglie, perché mia moglie è morta in carcere». «Sì». «La roda Monica aveva 38 anni e purtroppo se n'è andata io conservo a casa tutte le sue lettere. L'ultima che mi ha scritto era un mese prima di morire». Giuliano è il maggiore degli zii di Valeria. Anche sua figlia accuserà di abusi sessuali lui e sua moglie Monica, morta in carcere senza aver mai più rivisto i due figli. Entrambi stavano scontando undici anni di condanna». «Poi dopo l'ultimo colloquio che ho avuto con lei non riusciva a formare una frase. Ben passato un'ora lì, c'era la guardia lassù che girava sulla torretta, controllava tutti. Poi dopo sono venuti a prenderla e io lì l'ho vista per la penultima volta e l'ultima volta l'ho vista nella cassa». «Su questo stesso terreno dove sarebbero stati violentati i bambini e versato il sangue dei sacrifici, oggi sono sepolti gli accusati di questa storia». «Questi due angioletti li ho messi io per ricordare due figli. Questa qui è una targhetta che la puoi filmare da vicino anche. Ti ho sempre amato. Ora dal paradiso puoi vedere i tuoi figli tutti i giorni. Tuo marito Giuliano». «C'è uno di San Felice appunto che lui fa queste cose qui e mia mamma la fece fare, la pose sulla tomba di mia moglie. Ed è il pensiero che mi sono sempre portato anche in carcere». «Ma che riscontri sono stati trovati nei racconti dei bambini? Nessuno. Nessun corpo dei bambini uccisi, né alcuna denuncia di scomparsa, nessuna traccia di sangue, nessun segno di disotterramento o zolla fuori posto. Di notte e anche di pomeriggio, il Camposanto, che si trova a 300 metri dal bar del paese, si animava di processioni di 10 o 15 persone. Eppure nessuno ha mai sentito nulla nelle case vicine o lungo la strada, nessun testimone. «Mai nessuno ha visto niente in paese. Io li posso dire, tutti ne parlavano perché tutti si sono rimasti scompolti». «Lo sconcerto perché le maestre, diciamo, ma sono bambini normali, le catechiste, ma sono bambini che non hanno problemi. L'insegnante del coro, ma non vedo queste». E quindi più andava avanti, più la gente diceva «No, non ci sta, non ci sta, perché noi non abbiamo mai visto niente attorno ai cimiteri, non abbiamo mai visto queste processioni che dicevano «Ma cos'è sta roba? Ma se la inventano di notte?». «Nessuna traccia, neanche nelle perquisizioni degli accusati, nessun materiale sospetto, nessuna abitudine strana e nei filmini sequestrati ai genitori, solo battesimi e comunioni». «Il fatto che non siano mai stati trovati dei corpi di questi bambini uccisi, come lo giustifichi?» «O ti ha mai fatto dubitare?» «Non ne posso avere su me stessa, perché se io non avessi vissuto quello che ho vissuto, non avrei neanche iniziato a parlare di un contesto del genere. Quelle cose lì, che non sono state provate, non sono state…» «Le prova il mio cuore, le attesta il mio cuore. Tutti potranno dire mancano le prove, ma le prove le portiamo noi sulla nostra pelle e questa è la cosa più tragica che è difficile da trasmettere». «Cioè per esempio il fatto che nessuno intorno ai cimiteri, e quindi cose che avvenivano all'aperto, anche vicino alle case, alle strade, avesse mai visto nulla, questo com'è possibile?» «Un giro di omertà potrebbe essere un buon aiuto a tutto questo. Poi io non ho le prove per testare che tutto il paese fosse omertoso e io non mi prendo questa responsabilità di dirlo». «Ok, non ci sono le prove, però le prove si possono cancellare, si possono fare di tutto. Non entro neanche in merito perché non sarei capace di capire come hanno fatto, come hanno… Però non ho nessun dubbio di quello che mi è successo, cioè come se fosse una foto». «Questa è la foto che Sonia conserva ancora nel suo portafoglio. È lei da piccola tra le braccia della mamma Daniela. È anche lei una dei sette cugini, portata via dalla famiglia come gli altri, è l'unica a non aver mai accusato i propri genitori e ad aver sempre negato i fatti». «Mi ricordo che ero a letto e dormivo e è suonato il citofono. Ho sentito mia madre rispondere al citofono e delle persone entrare in casa e poi ho sentito mia madre piangere. Quindi mi ha dato lo zaino di scuola con un cambio di vestiti e piangendo mi ha salutata mentre io andavo via con una poliziotta e quella che poi ho scoperto essere l'assistente sociale. Devi andare con queste persone, non ti preoccupare, ti vengo a prendere stasera, però lei piangeva, quindi… Non ti è mai venuta a prendere? «Eh no, non è mai più tornata a prendermi». «Hai tutto quello che ti serve per disegnare, qui c'è la Valeria, va bene? Che ti conosce, che ti senti tante volte, va bene?» Nel ruolo di psicologa dei servizi sociali c'è una giovane appena laureata, Valeria Donati. «Mette in galera le persone adattive». In queste immagini la vediamo assistere il bambino che all'interno della vicenda della bassa modenese ha parlato per primo durante un interrogatorio col giudice. È lei a seguire tutti i bambini di questa lunga inchiesta fin dall'inizio. Mi diceva che i miei genitori mi facevano del male perché mi facevano delle cose nella patatina e nel sederino piuttosto che andare nei cimiteri di notte. e accusavano mio padre soprattutto di queste violenze e mia madre invece di essere l'accomplice che in un qualche modo lo proteggeva. «E tuo padre ti ha mai fatto del male?» «No. Io mi ricordo in dieci anni che sono stata a casa, mi ricordo due sberle. O altre persone ti hanno mai fatto del male di quelle persone che erano citate?» «No, io la maggior parte non le conoscevo neanche, quindi nessuno mi ha mai fatto del male». I bambini venivano tolti sulla base di un sospetto, messi in affidamento in casa famiglia e dopo mesi di colloqui con gli psicologi emergevano le accuse contro i genitori. Di tutta questa fase, fondamentale per capire come i bambini hanno iniziato a fare racconti che prima non c'erano, non c'è neanche una registrazione. «E come descriveresti questo tipo di colloqui?» «Violenza psicologica. Gli altri bambini erano forti perché accusavano delle persone cattive e facevano in modo che i cattivi finissero in galera. Invece io ero l'unica che ero la pecora nera in un qualche modo che non ammettevo quello che era successo e quindi io mi chiedevo perché anche loro non potevano dire la verità che forse potevamo tornare tutti a casa, a vivere le nostre vite e invece ero l'unica a continuare a dire che non era vero e non era successo niente. Qual è allora la verità? Da una parte, bambini convinti tuttora dell'orrore vissuto sulla propria pelle. Dall'altra, una di loro dice che non è mai stato vero nulla. Come mai sono stati creduti i racconti dei bambini accusatori nonostante le incongruenze, le contraddizioni e le mancanze di prove? Nei diavoli della bassa modenese, in fase di processo, vengono chiamate ad interrogare i bambini e a stabilire la loro attendibilità tre psicologhe. Confermeranno tutto, stabilendo che i bambini accusatori dicono la verità. Una di loro si trova ora a Salerno. Vent'anni fa interrogava Valeria Covezzi e suo fratello. Io ti credo, assolutamente ti credo, in queste cose che sono successe. Ho anche visto che hanno fatto soffrire molto queste cose. Che cosa l'ha spinta a ritenere i minori credibili? Cerco di spiegare a te che non fai questo mestiere. Allora, il riscontro oggettivo di un abuso, sia esso rituale che non rituale, tu non lo trovi il materiale. Quindi il punto qual è proprio la questione in generale della credibilità del minore, che noi diamo ascolto a una credibilità che si basa su esiti psicologici, psicodinamici, clinici, che si trova e lo trovi in un bambino che può diventare anche adulto. Tu anche nell'adulto trovi ancora degli esiti di post-trauma, di trauma sessuale. Ma se noi parliamo di segni, come dire, obiettivi, non trovi dopo nemmeno tre giorni trovi più del materiale seminale nelle vagine delle bambine. Certo, però parliamo di cimiteri, gruppi di bambini che entravano nei cimiteri, terra, tombe scoperchiate, sangue, gatti, bambini uccisi. Parlavano questi bambini che ho periziato io. Ma lei li ritiene credibili? Non sono mai stati trovati riscontri, non è mai stato trovato un corpo, una traccia di sangue, terra smossa nel cimitero. Questi sono... Ma che ci vuole far sparire un corpo? Cioè, voglio dire, finché l'opinione pubblica, no, rimane, come dirti, bisognosa di credere a un bambino che parla di certe cose, che io ti ho spiegato prima, è molto complessa fare una psicodiagnosi. Se noi però, come liberi cittadini, non esperti, diamo la credibilità solo se si trova il cadavere, o se si trovano, come dire, i vestiti, no, con cui loro si mascherano, o oggetti con cui loro si mascherano, o i filmati, ma loro e i bambini non saranno creduti mai. Ma i bambini sono sempre credibili? O possono talvolta non dire la verità, o essere indotti a dire ciò che gli adulti vorrebbero sentirsi dire, e in ultimo suggestionarsi su come sono andati i fatti, fino a scollarsi totalmente dalla realtà? E' il modo di interrogarli quanto può guidare le loro rivelazioni e determinare la loro verità. A distanza di 20 anni e a 80 chilometri dalla bassa modenese, oggi i ruoli sono ribaltati e sono gli psicologi ad essere indagati e sotto processo. E' il caso mediatizzato di Bibbiano. Io sono una psicoterapeuta, io con i bambini faccio terapia. Sono proprio i professionisti del centro studi Ansel e Gretel, a cui facevano capo gli psicologi che si erano occupati dell'attendibilità dei bambini della bassa modenese, ad essere sotto inchiesta per falso, frode processuale e abuso d'ufficio per vantaggio economico. Ho visto bambini che nel corso della terapia, piano piano, si sono riaperti alla vita. Nadia Bolognini è la direttrice dell'area clinica di Ansel e Gretel. I carabinieri hanno piazzato le cimici per mesi presso la struttura di via Roma 4 a Bibbiano, dove lei e gli altri psicologi tenevano i colloqui con i bambini, secondo l'accusa, allontanati dalle famiglie senza un motivo valido. Perché tu da grande vuoi diventare un uomo come tuo padre? Vuoi essere diverso da lui? Sì. Ok, allora non ti fai la rabbia, perché sennò rischi di essere come lui. Hai sentito come ho detto? Tu sei stato un bambino abusato da tuo padre. E rischia che una parte della tua mente faccia le stesse cose che tuo padre ha fatto con te, che tu possa diventare un po' come lui. se non ti fai fuori la rabbia per quel tipo di padre che hai avuto, dobbiamo fare una cosa grossa. Sai qual è? Le psicologi la chiamano elaborazione del lutto. Io lo dico, dobbiamo vedere il tuo padre per quello che è nella realtà e sapere che quel papà non esiste più. E questa è la parte dolorosa. è come se dovessimo fare un funerale. I colloqui degli psicologi di Hansel e Gretel sono descritti come serrati e suggestivi, spesso monologhi di fronte a bambini ammutoliti. Secondo l'accusa, gli psicologi alterano lo stato psicologico dei minori al fine di indurre in errore la giustizia, denigrano i genitori naturali e generano nei bambini il falso ricordo di essere vittime di abusi sessuali da parte dei genitori. Alla parte bambina di c***o, vorrei dirgli che mi dispiace se qualcuno quando lei era piccola si è approfittato di lei, ma che posso assicurare che le persone che conosco io, che sono intorno a lei, non se ne approfitteranno mai. Però voglio che quella bambina piccola sappia che mi dispiace e che qualcuno abbia approfittato del fatto che lei era una bambina. Nadia Bolognini incita Chiara a ricordare presunti abusi sessuali subiti dal padre che lei avrebbe rimosso. Alla bambina però mancano i genitori dai quali è stata allontanata. Non mi ricordo perché non li posso più vedere. Una volta ho visto mio padre, poi pure ha detto che lo rivedrò nel prossimo mese, così e poi però alla fine non l'ho più visto. Ma non ti ricordi anche che avevi detto che non lo volevi più rivedere? Io ricordo questo. No, non l'ho detto questo. E ogni tanto mi capitava di piangere perché? Perché a me magari mancavano gli abbracci del papà e perché i suoi abbracci sono... cioè mi piacciono, perché io adesso mi... e quindi mi dispiaceva non... cioè pensai di non vederlo più e quindi alla fine non potevo più abbracciarlo così. Nel caso di Bibbiano sembra tornare lo stesso metodo usato nella bassa modenese vent'anni prima. Sempre gli psicologi di Ansel e Gretel o formati da quella scuola, convinti che i bambini fossero vittime di abusi sessuali. una convinzione di cui vengono intrise anche le famiglie affidatarie. Le due donne a cui è affidata Chiara vengono intercettate nella loro auto. Lo sai perché ti viene? Perché quella cantina lì la devi svuotare! La devi svuotare! Perché sta facendo stare male e te e tutti quelli che ti c'hanno vicino! Vai dalla Nadia e parli di quando ti sgridiamo anziché dire io sono così perché mi è successo questo! Dai, dillo! Eh no, perché ci hai torto! No, è inutile! No, no! Perché tu... Dai, dai, dillo! Perché tanto tu pensi io non posso dire... tu sei già quello che penso! Dai, paracolati come al solito! Dai, dillo! Quando non posso dire niente sei sempre tutto tu, dillo! Dai, dillo! Dillo! Hai ragione tu, certo! Sì, adesso io ho ragione io! Certo, hai ragione tu perché hai 11 anni e hai ragione tu! Sai come va il mondo e tutti quelli che ti sono vicini sono cattivi! Beh, ma una volta posso avere anche ragione! Non è che nessuno... Porca puttana, vai a scuola a piedi! Porca puttana, scendi! Scendi! Non ti voglio più! Io non ti voglio più! Scendi! Scendi! Perché? Consapevolezza ed amore i fondamenti della cura l'amore è una parola che non ricorre nel linguaggio scientifico ma credo che abbia una forza di sintesi Direttore di Ansele Gretele e fondatore del metodo è Claudio Foti marito di Nadia Bolognini entrambi sono indagati nell'inchiesta di Bibiano Foti ha lavorato anche come giudice per i minorenni e come perito in numerosi processi in tutta Italia Sì, sono stato accusato di questi turpi reati che poi alla fine non c'era neanche una prova ma dicevano che mi ero masturbato davanti a loro avevo fatto alle bambine avevo fatto dei giochi a scondo sessuale però poi alla fine tutto si dimostrò un grandissimo blef perché io queste cose non solo le ho mai fatte ma non le ho neanche mai pensate Questo padre è stato assolto dopo dieci anni di processo le due figlie pur non avendolo mai accusato direttamente non vogliono più vederlo Tutto inizia dopo la separazione dalla moglie quando entrambi vivevano a Salerno le bambine frequentano uno psicologo che inizia a rilevare in loro un atteggiamento sessualizzato prova a suo avviso di abusi subiti dal padre questo psicologo è Mauro Repucci marito di Sandra Pagliuca Mimava il gioco Chi è lei ritiene un gioco sessuale? Sempre saltellare come dire sui genitali è un gioco sessuale mettersi nel gioco stesi un divano con la farfallina in faccia al papà e la faccia vicino al pisello che cos'è? Non è un gioco sessuale cioè non è che ci vuole chissà quanto Nell'intero materiale le bambine non accusano mai il padre ne raccontano gli abusi per gli psicologi sono messaggi mandati col corpo e coi gesti ma inequivocabili anzi Repucci afferma che le bambine possano aver subito abusi di gruppo coinvolte più persone mai trovate vestite da biancaneve Ma suonavamo la chitarra qualche volta disegnavamo Cioè avete molto contatto fisico Ah no magari mi ricordo che mi sedevo sul divano e loro mi saltavano addosso ma se ne andavano via su no no Per l'urgenza che c'era in quel momento dopo un mesetto di averle viste è fatto un relazionato che andava approfondita la cosa ma per approfondire andavano messe diciamo sotto tutela non dovevano avere l'ansia l'affanno l'assillo che dovevano stare col papà perché se non si attiva la tutela il bambino non racconta Come perito delle minori a sostegno delle interpretazioni di Repucci entra in scena Claudio Foti con una memoria pro veritate di 250 pagine Le minori mostrano senza dubbio comportamenti molto ricorrenti tra minori abusati Esattamente questo minuto del video è descritto così La bambina fa un ballo sensuale tenendo sempre le mani l'atteggiamento è inequivocabilmente straneo ad un atteggiamento infantile e presuppone un forte condizionamento adulto erotizzante Per Foti il trauma sessuale è indiscutibile e sarebbe una violenza delle istituzioni mantenere i contatti tra le figlie e il padre E io con questa relazione pro veritate di Claudio Foti mi sono trovato a fare un processo di sette anni dieci in totale Per la perizia della controparte però nell'intera durata dei video non c'è traccia di atteggiamenti sessualizzati da parte delle bambine Nelle lunghissime sedute da Repucci le bambine, annoiate e distratte salgono e scendono dal divano e appassionate entrambe di danza mimano semplicemente dei passi di ballerina Che effetto le ha fatto vedere i video? Li ho iniziati a vedere quasi 5-6 mesi dopo non c'avevo la forza di vederli Sinceramente è una cosa agghiacciante, terribile Cioè vedere questo che in tutti i modi abusa della minoretà dell'infanzia delle tue figlie cercando di fargli tirare fuori far tirar fuori loro qualcosa che ti potesse accusare La cosa che l'ha colpita di più di questi tentativi di tirare fuori La freddezza di Repucci voleva far trasparire far vedere che tutto era un reato quindi che c'era in ogni caso c'era un qualcosa a carattere sessuale Ma a me dispiace soprattutto il fatto che quelle bambine hanno come dire perso completamente il padre perché potrebbe fare una confessione spontanea sarebbe la cosa migliore al di là delle prove che non hanno trovato della verità giuridica a me dispiace che che lui non abbia avuto un movimento interiore di dire ma io ho fatto le ho usate queste figlie Per quanto tempo non le ha viste? Sette anni Nessuna notizia di loro Niente Se adesso mi trovo con tutto risolto assolto con formula piena ormai il processo è passato in giudicato da cinque anni e mi trovo con un rapporto ancora a brandelli Ma lei si è mai confrontato su questo punto con le sue figlie? Ci sto provando sì e mi risulta sempre molto difficile ho provato anche a scriverle non lo so se è il termine appropriato ma hanno una sorta di cervello lavato nel senso che loro per una decina d'anni hanno sentito parlare male di me e basta di conseguenza insomma queste bambine sono ancora convinte che io sia un mostro Pur non avendo mai accusato il padre nelle figlie il dubbio che qualcosa sia successo nel loro rimosso si è insinuato è come smuovere la sabbia sul fondale dei ricordi tutto si confonde e così anche la verità qualunque essa sia viene sepolta ed è irrecuperabile Si deve andare in un piccolo comune di Valle nel Biellese per ritrovare il primo caso seguito da Foti e da Ansele Gretel dove un'altra tragica storia giace sepolta ancora in attesa di verità Nessuno ha mai creduto nessuno era impossibile credere a una cosa del genere però malgrado la solidarietà malgrado l'appoggio e l'affetto evidentemente questa cosa è è cresciuta dentro di loro e alla fine hanno capito che l'unica soluzione possibile era una soluzione definitiva alba e attilio ferraro 66 e 68 anni e i loro figli Guido e Maria Cristina sono accusati di tremendi abusi sessuali sul figlio di Guido 9 anni e la figlia di Maria Cristina 6 entrambi subito allontanati da loro la mattina della seconda udienza del processo il 5 giugno del 1996 tutti e quattro vengono trovati morti uno accanto all'altro con loro questo biglietto quattro innocenti sono costretti ad uccidersi perché il tribunale di Biella non ha concesso di dimostrare la loro innocenza erano amici di famiglia una famiglia di operai ma aveva la caratteristica di essere molto dignitosa molto composta molto in un certo senso formale nel senso che la formalità era data da questa eleganza che aveva tutta la famiglia perché erano persone estremamente corrette carine inserite molto bene nel contesto del paese ed erano molto amate la vicenda della famiglia Ferraro è ancora viva nella memoria del paese Diego Siragusa al tempo assessore ha ricostruito la storia e conservato i documenti in un libro poi tolto dal commercio in seguito a minacce di querela la perizia psicologica di 125 pagine sui bambini su cui si basa tutta l'accusa è firmata da Claudio Foti e dalla sua moglie di allora Cristina Roccia durante un interrogatorio del dottor Claudio Foti al bambino questi disse a Sagliano nella casa dei nonni c'è una botola sotto il letto sotto il letto mio nonno ha delle armi ci sono delle cassette pornografiche video registratori vanno a Sagliano spostano tutti i letti ma non c'era nessuna botola sotto il letto non c'era nessun passaggio segreto non c'erano armi non c'erano videoregistratori non c'erano cassette pornografiche nei consulenti c'è questo dogma assoluto che il bambino ha sempre ragione dice sempre la verità i racconti del bambino accusatore sono pieni di contraddizioni per ben due volte ritratta dicendo che sono bugie per difendere la madre in una separazione conflittuale la cuginetta più piccola non dirà quasi mai nulla nessuna prova nessun riscontro nei fatti ancora una volta l'unico pilastro dell'accusa sono le perizie psicologiche i racconti del bambino sono la descrizione delle peggiori perversioni sessuali orge sesso estremo tra nonni e figli violenze sui bambini come se la famiglia Ferraro celasse una vita segreta piena di orrori nessuno crede a queste cose che sono successe ho accusato ingiustamente queste persone evidentemente o la vergogna e tutto è successo quello che è successo nessuno qua in paese ha mai dubitato di loro penso proprio di no visto anche numerosa gente che c'era ai funerali non credo proprio e sono arrivato qua con il furgone che il signore qui Giovanni mi ha detto non finila non finila non capiva cosa voleva dire in Piemonte si erano solicidati era appena successo si sono trovati è lì che si rimane male tutto degenera quando il pubblico ministero decide a rinvio a giudizio fanno una audizione protetta loro stanno dalla parte dello specchio dove non possono essere visti nel momento in cui gli imputati dall'altra parte del vetro assistono a questa scena hanno capito che il processo ormai è finito infatti vanno a casa della sorella della nonna di Maria Rigolone e dicono i bambini ci hanno accusato nonno Attilio dice ci metteranno in galera ci sono scene drammatiche scene di pianto che Maria Rigolone mi ha raccontato loro poi sono tornati a casa hanno preso la decisione hanno indossato i loro abiti migliori si sono chiusi in macchina e poi con il tubo di scarico guido ha acceso la macchina si è messo due al volante accanto a sé la sorella Maria Cristina e i genitori dietro e quello era il garage dove sono stati trovati i carabinieri avevano messo lo sbarramento qui con la striscia bicolore in quanto era tutto sotto sequestro il processo viene archiviato con la morte degli imputati la verità mai accertata Cristina Roccia che insieme a Claudio Foti ha costituito il fondamento dell'accusa contro la famiglia Ferraro è una delle tre psicologhe che esattamente l'anno successivo si occuperà delle perizie dei bambini della bassa modenese Anche l'inchiesta sui diavoli della bassa modenese è segnata dal suicidio di una madre uno dei 20 genitori indagati si getta nel vuoto dal balcone del settimo piano di questo palazzo quando le viene tolta la figlia di sei anni e viene accusata di abusi sessuali e di partecipare ai riti nei cimiteri oggi questa stessa bambina nega ciò che ha raccontato e sta facendo aprire un riesame per questo non è possibile intervistarla è la terza insieme a Sonia e ad un altro ragazzo oggi a dire che non è successo nulla me lo chiedo spesso come sarebbe stata la mia vita se fossi rimasta a casa con mia madre dopo quanti anni ti sei riavvicinata la tua mamma dopo 20 anni anche se ho resistito e non ho mai fatto certe testimonianze comunque un minimo di dubbio me l'hanno messo in testa comunque avevo questa famiglia fidataria mi dava un po' di stabilità e quindi speravo di poter accantonare tutto il resto e farmi la mia vita in realtà il pensiero c'era sempre anche se cercavo di nascondermelo e il fatto di diventare mamma poi ha fatto proprio come ha reagito tua mamma quando l'hai ricontattata? ho pianto tutta la telefonata poi ci siamo visti perché prima l'ho chiamata poi ci siamo visti e ci siamo abbracciate è stato strano perché c'è un po' come non averla mai lasciata in realtà ecco ma tu dai pianto in quel periodo perché sai voglio dire una bambina insomma tu sei già una ragazzina però una bambina che viene tolta dal papà e dalla mamma sai ovviamente si pensa che almeno a un'età così abbia dei ma che problema si pensa a piangere tu sei messa a piangere hai sentito da mancanti i primi non so la prima settimana mi commuovevo spesso dopo poi pian piano era difficile che io piangessi ho capito senti se posso essere onesta e libera con me stessa io a casa non ho mai avuto il desiderio di tornare questa è questa è la camera che era di del figlio della Lorena loro sono scappati sostanzialmente abbastanza velocemente sono proprio poi qui c'è la stanza che era dei loro figli nella casa dove viveva la famiglia Covezzi tutto è rimasto come cristallizzato nel tempo tra i pupazzi che attendono nella plastica riconosco i giochi e alcuni libri sono gli stessi della mia infanzia disegni appesi biglietti d'amore per la mamma Lorena cara mamma io sono per te il più bel fiore che c'è non torneranno più i quattro bambini e non torneranno più la mamma Lorena incinta e il papà costretti a fuggire con l'aiuto dei frati per dare alla luce il loro ultimo figlio che altrimenti sarebbe stato tolto anche lui dagli assistenti sociali nel 2014 dopo 17 anni di processo vengono entrambi assolti il marito di Lorena muore l'anno prima della sentenza Lorena la maestra d'asilo conosciuta da tutti a massa finalese vive ancora oggi nel piccolo villaggio della Provenza in cui è scappata entrate c'è da mangiare anche per voi se volete ma no no assolutamente forse questo ne ho talmente tante ne ho talmente tante tiene proprio tutto tutto io sono maniaca questo è quello di Valeria questa è Valeria la prima ciocca di capelli perché poi nelle pagine non c'era abbastanza spazio lo raggiungevo fuori forse questo è il primo scarabocchio che ha fatto per il suo papà forse qui è il battesimo nonno Enzo nonna Lina e poi c'è tutte le occasioni io scrivevo tutto ma questa è Valeria quando era piccola uno dei miei figli per esempio dice sì la notte al cimitero mi inchiodavano la croce e poi mio padre tirava i coltelli facendo attenzione di non ammazzarmi uno dei miei figli dice il papà prendeva il pulmino della parrocchia ed è vero poi andava a prendere i bambini a casa ed è vero poi li portavamo in teatro e quando eravamo al teatro della parrocchia cinque ne uccidevo e tre volte alla settimana e la mamma e per tre volte alla settimana e la mamma raccoglieva il sangue mio figlio è vero parte da un vissuto vero i miei figli mi vedevano nel teatro della parrocchia spazzare dopo la festa di San Martino la festa della mamma la festa del papà raccoglievo coriandoli raccoglievo briciole tiravamo via festoni ecco o mettavamo festoni mi hanno vista ma dovevano fare la separazione delle cose e dire fino a qui il bambino dice la verità ma da qui in poi sta delirando da qui in poi sta raccontando delle cose mai constatate dico ai miei figli ragazzi per il vostro bene per la vostra libertà fatevi delle domande cercate Stefano Stefano l'ultimo nato qui in Provenza oggi ha 20 anni Matilde è la sua ragazza Lorena non ha mai più rincontrato i suoi quattro figli tolti all'età di 11 9 7 e 4 anni allora e lì c'è il parmigiano e voilà questa dunque la nostra inchiesta che finisce con un raggio di sole ma che certamente evoca episodi drammatici dai quali va detto nessuno esce indenne allora adesso ci colleghiamo con Firenze dove troviamo la professoressa Giuliana Mazzoni buonasera benvenuta buonasera a voi buonasera allora la professoressa Mazzoni insegna la sapienza di Roma una studiosa della memoria specializzata in particolare nella psicologia della testimonianza professoressa come prima cosa le vorrei chiedere questo facendo astrazione da quello che abbiamo visto in linea puramente teorica ci può spiegare come qualcuno può ricordare una cosa che non ha mai vissuto certo volentieri anche se devo dire che vorrei premettere dicendo che tutto il mio rispetto va a questi ragazzi che dopo aver vissuto quello che hanno vissuto qualunque cosa sia successa loro all'inizio in realtà sono stati poi in grado di ricostruirsi una vita e a questa vita secondo me hanno diritto certo e venendo adesso alla domanda sulla possibilità di creare dei ricordi falsi o parzialmente totalmente falsi devo ricordare che come studiosa della memoria che è la mia attività principale insomma la memoria il ricordare non è mai un ripescare noi nel nostro cervello nella nostra mente non abbiamo mai dei ricordi completi completamente accurati perché il ricordare cioè l'atto di ricordarsi non significa ripescare qualcosa ma significa fondamentalmente il ricostruire da piccoli pezzetti che sono sparsi in varie aree del cervello un episodio che per noi cioè un episodio mio per esempio che per me personalmente abbia un senso compiuto e questo cosa significa significa che la memoria umana non è mai completamente accurata la mia memoria personale delle esperienze della mia vita non è mai la ripetizione esatta di quello che effettivamente mi è successo è sempre una ricostruzione che tiene conto in parte di quello che mi è successo quindi degli elementi che sono in memoria e che riesco a recuperare a cui riesco ad accedere e anche di tutta una serie di convinzioni che ho sul mondo sulla vita sugli altri di tutta una serie di informazioni che mi vengono date al momento di informazioni fresche e quindi è un pochino un put purri non esiste la memoria pura ecco certo questo è molto chiaro credo che sia accettabile condivisibile da tutti ma qualcuno seguendo la nostra trasmissione potrebbe dirsi ma qui parliamo di fatti estremi parliamo di persone che dicono di ricordare di aver ucciso di aver subito degli abusi sessuali e quindi qualcuno potrebbe dirsi ma com'è possibile che qualcuno appunto come dice lei pescando qua e là arrivi a virgolette ricordare fatti così cruenti in effetti capisco le perplessità e queste sono situazioni estreme va bene però è anche vero per esempio che c'è moltissima ricerca su forme come non so l'induzione ipnotica oppure suggerimenti forti oppure coercizioni molto forti che fanno sì che poi le persone riportino e poi nel tempo ricordino delle cose anche molto cruenti che non hanno commesso voglio dire ci sono per esempio state nel passato delle tecniche di polizia che erano anche proprio codificate in un qualche modo per esempio dall'fbi negli Stati Uniti da alcuni autori dell'fbi negli Stati Uniti in cui le persone vengono proprio spinte a dire e quando poi raccontano delle cose ammettono di aver fatto delle cose che non hanno fatto poi un po' per volta questi avvenimenti che loro non hanno queste azioni anche molto cruenti che non hanno compiuto però rimangono nella mente e la nostra capacità immaginativa noi immaginiamo tanto la nostra capacità immaginativa può essere talmente forte talmente vivida talmente emozionalmente pregnante che poi scambiamo queste immagini mentali per un ricordo e questo può avvenire sia per situazioni neutrali quindi per avvenimenti neutrali ma può avvenire anche per avvenimenti cruenti e molto pesanti insomma anche da ricordare spostiamoci adesso dalla parte dei servizi sociali degli psicologi che si sono occupati dei casi che abbiamo visto nel servizio cosa può aver animato queste persone quali possono essere stato lo stato d'animo l'inclinazione metodologica che hanno avuto nel condurre le loro interviste con i bambini sì io credo ritengo che lo stato d'animo sia stato uno stato d'animo tra virgolette positivo nel senso che ritengo che gli psicologi si siano mossi nell'ipotesi che questi bambini andavano protetti ad ogni costo ancora prima di avere delle prove va bene e quindi questo desiderio quasi estremo di protezione dei bambini ha poi portato ad agire in un qualche modo estremo quindi prendendo o facendo prendere provvedimenti che in un qualche modo hanno però dal mio punto di vista inquinato le prove nel senso che sono stati questi bambini sono per esempio stati prelevati sono stati interrogati molte volte in modo anche abbastanza pesante ma sempre da parte degli psicologi anche da parte degli inquirenti c'era questa convinzione che i bambini dicessero la verità e quindi sono andati a cercare gli elementi di conferma di questi fatti che di cui gli adulti erano convinti e un po' per volta questo modo di porsi nei confronti dei bambini ha fatto sì che si creasse una sorta di sinergia tra adulto e bambino l'adulto suggerisce delle cose il bambino risponde in un certo modo l'adulto le interpreta e così via e così via e in questo modo si costruiscono poi delle situazioni anche collettive insomma come per esempio nel caso che era stato descritto nel documentario ecco se non sbaglio questo era proprio un metodo seguito questo del disvelamento progressivo cioè il fatto che il terapeuta potesse interagire potesse mettere degli elementi suoi a disposizione del bambino e a riguardo le chiedo oggi le linee guida per condurre questo tipo di audizioni con dei bambini in Italia su che cosa e in che modo si differenziano da quanto fatto diciamo dalla scuola di Foti senza entrare troppo nei dettagli ma certo no no certo ma dico la scuola di Foti è una scuola ancora esistente quindi non parliamo troppo al passato parliamo anche in parte al presente ma quello che fanno le linee guida che se ne dica è di tracciare dei comportamenti da parte degli inquirenti e da parte degli psicologi dei periti che si occupano di questi casi che garantiscano la bontà del ricordo che garantiscano di non mettere in bocca a nessuno delle cose a un testimone a una vittima delle cose che il testimone stesso e la vittima non direbbe spontaneamente e quindi questo principio del disvelamento progressivo che in parte è corretto se però è utilizzato in modo un po' coercitivo un po' suggestivo eccetera porta a far sì che poi un bambino racconti anche quello che non è successo quindi per voglio dire per rompere la resistenza eventuale di un bambino che non vuole raccontare delle cose brutte che sono successe non necessariamente bisogna essere coercitive non necessariamente bisogna essere suggestivi non necessariamente bisogna mettere in bocca al bambino delle parole suggerire no non bisogna suggerire assolutissimamente bisogna ascoltare bisogna ascoltare le chiedo un'ultimissima considerazione prima di lasciarla i fatti di cui abbiamo fatto riferimento avvengono circa alla fine degli anni 90 sono anni in cui in tutta Europa negli Stati Uniti in Inghilterra vengono a galla vicende pesantissime di pedofilia può darsi che il comportamento degli psicologi in quegli anni fosse subisse in qualche modo un condizionamento culturale per così dire certo questa è una possibilità il condizionamento culturale è una possibilità anche perché il condizionamento culturale per esempio in alcuni lavori di antropologi è stato verificato sia accaduto anche per esempio negli Stati Uniti negli Stati Uniti ci sono stati tutta una serie di case di questo tipo a partire da metà degli anni 70 poi si sono spostati questi casi in Inghilterra per esempio a partire dagli anni 80 e la presenza di seminari su questi argomenti è stata collegata poi alla nascita di casi di questo tipo e quindi sì ci può essere anche un'influenza culturale una sorta di respirare il clima un certo clima culturale e il diffondersi di una di una sorta di ideologia in un qualche modo psicologica che ritiene che l'abuso sia estremamente diffuso e quindi l'abuso va cercato in qualche modo ad ogni costo cercato e trovato ad ogni costo professoressa Mazzoni io la ringrazio per essere intervenuta questa sera a Falò bene prego arrivederci buona serata grazie a lei allora torniamo in studio dottor Calanchini e abbiamo menzionato Claudio Foti la signora ha detto ricordo che la sua scuola è ancora aperta ricordiamo anche che andrà a processo tra poco credo tra l'altro per i fatti di Bibiano allora Claudio Foti noi questa sera ne parliamo parliamo di questa figura anche perché ha frequentato per anni il Ticino ha ricevuto dei mandati diciamo da alcuni dipartimenti dalla Subsi da EOC e in particolare da due ARP da due autorità regionali di protezione dei mandati per esperire delle perizie e qui arriviamo a lei perché lei ha avuto modo di leggere una di queste perizie e ad inizio trasmissione ha dato un giudizio piuttosto definitivo dicendo non era peggiorabile ecco possiamo entrare un po' di più nei dettagli di questa perizia che ci aiuta magari anche a capire un po' meglio il personaggio possiamo entrare nei dettagli rispettando però la privacy delle persone che sono state riguardate da questa perizia e ovviamente anche quello che è il segreto d'ufficio queste perizie perché ne ho viste due in pratica una l'ho analizzata ho fatto una controperizia e la conosco quindi piuttosto bene nell'altra l'ho soltanto letta sono a mio avviso ma sono pronto a sostenere un confronto con qualcuno che volesse sostenere il contrario mancano completamente di metodo non c'è nessun rigore scientifico il difetto principale è questo io potrei dire sono l'antitesi del metodo cartesiano il metodo cartesiano parte dal dubbio sistematico metto in dubbio le mie sensazioni metto in dubbio i miei pensieri eccetera fino a quando mi riduco a non poter dubitare del fatto che io sto dubitando quello è il cosiddetto cogito punto fermo nel caso delle perizie di Fotti succede esattamente il contrario non dubito dei miei pregiudizi dopodiché mi invento delle storie per confermarli detto in poche parole ideologiche totalmente non c'è una minima ricerca della verità fattuale non c'è la ricerca di una verità nemmeno documentale c'è il tentativo messo in atto qualche volta in un modo impresentabile oserei dire e lo posso dire perché Fotti si è visto anche nel documentario fa delle perizie lunghissi 250 pagine si diceva in cui in pratica trascrive il suo dialogo il suo incontro con il bambino rispettivamente con chi di dovere nel caso che ho visto io c'erano anche i genitori quindi si può leggere parola per parola che cosa è successo tra Fotti e bambino e le domande e le risposte perché sono estremamente suggestive cioè c'è proprio la creazione di una pseudo verità attraverso la suggestione attiva del bambino ecco da questo punto di vista come siamo messi in Svizzera e in Ticino questo tipo di audizioni che da noi sono condotte dalla polizia secondo lei sono generalmente condotte con rigore quindi stando attenti a non suggerire ci sono sufficienti linee guida c'è professionalità allora la mia esperienza in materia è molto limitata io ho assistito ho potuto visionare le registrazioni audiovisive di alcune audizioni di minori e c'è se non altro lo sforzo di essere corretti poi qualche sbavatura qua e là può capitare a tutti ma c'è lo sforzo ovviamente il sussido nettesi potrebbe dire la ricerca del lavoro fatto bene in Fotti questo non c'è c'è proprio la totale indifferenza per qualche cosa che si discosse dal suo pregiudizio quanto può pesare una perizia perché qui abbiamo visto nel filmato dei casi ma ribadiamo non è che ci stiamo fissando su questo caso particolare abbiamo detto sono vicende che hanno una valenza globale in cui c'è una perizia che dice una cosa e c'è ci sono tutta un'altra serie di elementi che dicono il contrario lì si diceva che i bambini avevano fatto questi racconti e poi c'era una totale mancanza di elementi di riscontri sul terreno c'era una comunità che diceva ma no non è possibile escludiamo che queste persone c'erano addirittura altri bambini che smentivano i primi quindi tutta una serie di elementi che puntavano in una direzione e dall'altra parte esclusivamente la perizia che andava in un'altra ecco e nel caso italiano in particolare la perizia ha finito per imporsi perché ci sono state delle condanne dei processi anche poi col tempo si sono rivisti questi giudizi ma che peso può avere una perizia di nuovo torniamo al nostro contesto io credo che una situazione come questa che abbiamo visto nel documentario difficilmente potrebbe presentarsi qui il problema il problema è che quelle presentate da Foti e adepte della sua scuola chiamiamole così non meritano di essere chiamate perizie sono dei discorsi affabulatori che per delle ragioni che mi sfuggono perché non hanno niente a che vedere appunto in un lavoro peritale sono state tenute buone sono state tenute per buone e non riesco spiegarlo qui io credo che non avrebbero avuto nessuna possibilità di successo infatti la perizia che io poi ho contestato alla fine non è stata considerata purtroppo è stata commissionata da una nostra autorità per ragioni che mi sfuggono è stata commissionata però alla fine non è stata forse perché in quel momento Foti era personaggio comunque che in Italia godeva di una certa reputazione eccetera tra l'altro noi non vogliamo come dire colpevolizzare nessuno per aver invitato Foti in Ticino all'epoca dei fatti insomma la sua figura probabilmente aveva ancora una certa una certa importanza indubbiamente indubbiamente io avendo letto quello che ho letto sono molto stupito che fosse così ma era così certo i servizi sociali in queste vicende in generale hanno un ruolo delicatissimo e quindi insomma delicato e spesso si devono affidare a degli esperti insomma si riesce a stabilire quale può essere per così dire la verità abbiamo un padre e una madre che dicono cose diverse rispetto a quello che è successo al figlio ecco con che spirito deve intervenire l'esperto per dare a chi deve decidere degli elementi di valutazione non bisogna confondere il ruolo del perito con quello dell'inquirente quindi l'accertamento dei fatti compete all'inquirente che è la polizia che è il registrato eccetera in ogni caso non è compito del perito il perito può cercare di stabilire in certi casi la credibilità ma la perizia di credibilità adesso non si fa praticamente più oppure può cercare di stabilire se il presunto autore è psicologicamente disturbato in un modo tale che si possa spiegare quello di cui è accusato o eventualmente nel caso che si entri poi in un ambito penale che si possa in qualche modo giustificare una imputabilità scemata in qualche modo certo questo è il compito del perito siamo arrivati alla fine della nostra puntata dottor Calanchini le chiedo ancora una cosa prima di chiudere molti seguendoci questa sera possono aver pensato che quei bambini sono stati ingannati così fosse come possono queste persone oggi fare i conti con questa con questa realtà con questo imbroglio avvenuto presto nella loro vita cosa possono fare per tirarsene fuori ribadisco che facciamo un'ipotesi è terribilmente difficile rispondere a questa domanda abbiamo visto che per esempio la prima asserita vittima di eriti satanici che è sicuramente vittima anche di falsi ricordi suggeriti insinuati nella sua mente questa aderisce a questi falsi ricordi e non vuole discostarsene non penso che sia possibile convincerla che ciò che crede essere accaduto non sia accaduto dovremo vedere un po' quale sarà la sua evoluzione perché una persona ancora giovane ci possono essere diverse possibilità e può darsi che in un futuro non immediato decida di recuperare un po' una maggiore autenticità diciamo così che vuol dire anche rielaborare un po' questo l'invito che le fa la madre è proprio quello di farsi delle domande che forse è l'invito che possiamo fare anche noi perché evidentemente la verità assoluta non ce l'abbiamo ma è sicuramente opportuno farsi delle domande rispetto a queste vicende assolutamente dottor Calanchini io la ringrazio per essere intervenuto a Falò questa sera e noi siamo arrivati alla fine della puntata di oggi l'appuntamento naturalmente è a giovedì prossimo grazie per averci seguito anche questa sera grazie a tutti